La Guardia di Finanza della Compagnia di Agropoli, al termine di un'attività di indagine delegata e coordinata dal dottor Michele Oricchio, procuratore regionale della Corte dei Conti per la Campania, ha segnalato un complessivo danno erariale di oltre 200.000 euro causato dall'ultimo quinquennio dai vertici politici e burocratici dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, composta dai Comuni di Agropoli, Cicerale, Laureana, Lustra per Diffumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara. L'operazione condotta dai finanzieri della Compagnia di Agropoli ha posto nel mirino il pagamento, ritenuto illegittimo, di premi conferiti al personale che operava per l'Unione, perché per i Comuni di appartenenza, in relazione a un progetto per il recupero dell'evasione della Tarsu.